Comis, a Pesaro dal 1994, opera nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto a olio e gas grazie alla competenza del proprio staff. Tramite il proprio sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, Comis implementa continuamente le proprie risorse per garantire ai propri clienti servizi integrati di progettazione e direzione lavori di elevata professionalità, Comis. Progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas. I tuoi infissi non isolano l'appartamento da spifferi di vento e freddo? Noi di RB Plast abbiamo tutto quello che ti serve. Da sempre siamo rivenditori di tapparelle e infissi in PVC, non solo finestre ma anche porte blindate, grate di sicurezza, zanzariere e accessori per tapparelle. Viene a scoprire tutti i nostri prodotti e gli incentivi fiscali con sconto in fattura nello showroom di Via Flaminia 300 a Pesaro. Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti, buonasera a tutti. Siamo sul Canale 80 insieme a Canestro, una puntata speciale, una puntata straordinaria con diverse sorprese. La prima è che vedete me al posto di Marco Cadeddu, perché Marco Cadeddu questa sera in realtà ha un altro impegno. Come possiamo vedere sta recitando Dante, è stato proprio scritturato per leggere la Divina Commedia. In questo momento non può essere con noi. State tranquilli che giovedì prossimo sarà di nuovo qui negli studi di Rossini TV. Ma andiamo subito sugli ospiti, perché abbiamo due ospiti davvero d'eccezione, soprattutto il primo, non ci togliamo niente Paolo, dicendo che l'ospite veramente d'eccezione è Walter Magnifico. Buonasera a tutti. E poi il nostro amico Paolo Poto, un grande conoscitore della palacanestro pesarese, tanti anni di esperienza sui campi e anche tanta passione per questo sport straordinario. Ciao a tutti, buonasera. Abbiamo poi in quella che è una funzione per lei completamente nuova, la nostra Roberta Esperide che sostituisce Giovanni Zida. Roberta, buonasera. Buonasera Antonio, buonasera agli ospiti. Ma Giovanni Zida dov'è? Anche lui questa sera è impegnato perché sembra che sia impegnato a fare delle gare ciclistiche, abbiamo un'immagine che lo ritrae, vedete, in ben altri lidi rispetto a questo, anche lui chiaramente giovedì prossimo sarà qui. Questa sera quindi stravolgiamo completamente la squadra di Insieme a Canestro, ma speriamo comunque di poter dare insieme ai nostri ospiti un bel ritmo a questa trasmissione, ma soprattutto insieme a voi carissimi telespettatori e carissimi telespettatrici che vi invitiamo a interloquire con noi, a contattarci. Roberta, come fare per contattare Rossini TV? Sì, ricordiamo ai nostri telespettatori che possono interagire con noi tramite WhatsApp al numero 370-366-7210 oppure commentando la diretta Facebook. Benissimo Roberta, poi entreremo anche nel merito del contest, il nostro quiz che mette in palio due biglietti per la partita VL contro Reggio Emilia che si giocherà il 5 di febbraio, quindi fra dieci giorni. Vi anticipiamo già che sarà una domanda che riguarda Walter Magnifico col quale entriamo subito a contatto. Se così possiamo dire, Walter, siamo contentissimi di averti nei nostri studi. Tu sei oggi, lo dicevamo prima, un dirigente. Ti abbiamo proprio definito anche nella nostra presentazione. Sei il brand ambassador della VL. È un ruolo importante perché in realtà tu rappresenti la società, ma noi ti ricordiamo, lo dicevamo anche prima, come grandissimo giocatore, grandissimo sportivo e averti qui con noi è una grande emozione. È un piacere anche per me, ti ringrazio. Walter, allora io direi prima di cominciare a parlare con lui è giusto spiegarvi chi abbiamo in studio. Abbiamo in studio un giocatore che nella classifica di tutti i tempi della pallacanestro è il quarto per presenza in Serie A, 760. Settimo cannoniere di tutti i tempi, 9189 punti. Secondo rimbalzista di tutti i tempi, 4246 punti. quarto come percentuale di realizzazione nei tiri liberi e poi c'è un record che ci facciamo raccontare direttamente da lui. Sì, perché i numeri sono la conseguenza di 22 anni di campionati di Serie A, di 22 campionati, quindi tanti numeri vengono automaticamente, diciamo salgono automaticamente. Il record a cui tengo di più, il record, il numero a cui tengo di più è quello dei minuti giocati che per curiosità sono 20.000 totali. Ci tengo questo numero perché significa quanta fiducia hanno avuto gli allenatori in me nel lasciarmi in campo e quindi diciamo per me è significativo questo. Certo, pensate, 20.000 minuti netti peraltro, non 20.001, 19.000 e quindi è davvero un record incredibile. Abbiamo fatto un calcolo, corrispondono più o meno a 14 giorni consecutivi, come se tu fossi stato 14 giorni consecutivi in campo. Ma forse a quell'età lo potevi fare, Walter. Beh, insomma, però il piacere di giocare è la cosa più bella per chi fa sport. Stare sul campo o qualunque disciplina si fa, si pratichi, da atleta, da giocatore è la cosa più bella. È vero, è così. E considerate che Walter Magnifico ha anche 214 presenze in nazionale, 2026 punti con la maglia azzurra, due medaglie agli europei, una di argente e una di bronzo nel 1985, nel 1991 e un quinto posto alle Olimpiadi di Los Angeles. Davvero una leggenda del basket italiano. Paolo, tu l'hai seguito come tifoso, come sportivo, come conoscitore della pallacanestro. Cosa diresti di Walter Magnifico? Walter Magnifico direi che oltre che è stato quel campione che tu hai descritto con tutti i numeri in assoluto, quello che non emerge dai numeri che Walter Magnifico era il giocatore più moderno della sua era cestistica. Era stato il primo giocatore a quasi due dieci, due nove, due dieci, le statistiche ballano all'intorno con veloce, mobile, tiro da anche la lunga distanza oltre i movimenti. Quindi era stato un giocatore che poi oggi, con l'evoluzione fisica del gioco, se ne trovano diversi, non forti come lui, con quella caratteristica. Però la caratteristica importante era veramente quella. Io mi ricordo quando Walter Magnifico si alzava e tirava da tre. Già, a quei tempi era... e andava dentro, andava dentro. Sì, sì, era... Allora, io chiaramente non avendo una struttura fisica potente, dovevo abbassare un po' tutto sulla sua agilità, sulla velocità, per cui erano gli anni in cui il secondo lungo, che non era proprio il pivot, adesso, per dire ario, no? Prevo la struttura del pivot, del numero 5 di oggi. Con le spalle larghe proprio. Eh, diciamo, che comunque operava vicino al canestro, poi molto più vicino al canestro. Chiaramente il secondo lungo cominciava ad allargare un po' il suo raggio di azione, soprattutto in attacco, quindi ad uscire anche un po' fuori dall'area. A me poi piaceva correre tanto, quando, soprattutto nel periodo in cui c'era Gracis, Dei Cook, che si correva alla scavolina, diciamo, la VL, scavolina dell'epoca, era molto, diciamo, proiettata a gioco d'attacco e alla velocità. Io andavo a nozze perché seguivo i tre piccoli, una volta il contropiede era solo sviluppato dai tre piccoli, poi ho cominciato a correre, quindi avere un quarto giocatore, un lungo che poteva correggere i tiri al canestro, poteva realizzare come primo rimorchio, come si dice, era un vantaggio. A me piaceva correre, quindi giocavo sull'agilità e in quel periodo lì, come me, anche qualche altro mezzo lungo ha cominciato un po' così. Adesso il gioco è completamente cambiato, bisogna muoversi in velocità tutti i lunghi. Prima ogni giocatore aveva un raggio d'azione ben delineato, in A vicino al canestro piuttosto che fuori, playmaker, guardi, eccetera. Oggi tutti giocano, tutti si muovono, la palla deve essere molto più in movimento per quando riguarda l'attacco perché la maggiore atleticità dei giocatori hanno fatto sì che soprattutto in difesa gli spazi che sono sempre gli stessi vengono coperti molto più rapidamente, quindi la palla deve girare molto di più, quindi anche i lunghi vanno fuori. Comunque va bene. È verissimo ed è tutto molto visibile. Questa evoluzione della palla canestro sta alla palla canestro come tanti sport, sono cambiatissimi nel corso degli anni. La palla canestro è diventato veramente uno sport supersonico, velocissimo. Facciamo vedere e ringraziamo Andrea Sabatini che grazie alla sua regia ci tiene davvero costantemente in pari con le immagini, con i contributi che abbiamo preparato. Facciamo vedere le immagini di Walter Magnifico da giovane perché questa bellissima foto, a parte questa, che questa era successiva, ma ne parliamo subito, è un'immagine che ormai Walter Magnifico dirà non ne posso più di vedere, quella con D'Antoni per terra. È vero Walter? No, anche troppo. Allora, è sempre un bel ricordo perché risveglia un po' quel momento che ha entusiasmato un po' tutta Pesaro, tutti noi giocatori, la società, tutti i tifosi, per cui era un po' una sorta, come diceva Bianchini, una liberazione dallo strapotere di Milano e quindi per noi questo è stato un momento. La particolarità è che non è stata fotografata a quell'azione. È vero, infatti questo è un contributo tratto da un filmato. Per cui diciamo che c'è questo, arrivasse un po' nell'immaginario, c'è solo questo piccolo fotogramma tratto dalla televisione. È un bel momento, dai. E poi abbiamo anche un Walter invece istituzionale, proprio il dirigente che saluta il pubblico, lo abbiamo trovato in un'immagine perché è davvero questa oggi l'immagine di Walter Magnifico che appunto davvero è l'uomo immagine della VL. Paolo, se... Scusa, ti interrompo perché ci tengo molto. Questa è stata proprio la prima fotografia di quando sono ritornato in VL insieme al mio carissimo amico, veramente un fratello Ario, io lo devo ringraziare perché l'artefice è stato lui insieme a Luciano Amadori che tre anni fa era ancora presidente del consorzio. Sono stati loro a volermi di nuovo in società, io sono... glielo sarò veramente grato perché sto vivendo questo periodo veramente con grande passione perché comunque dopo essere stato 22 anni, 19 anni giocatore e poi adesso anche diciamo nel ruolo di dirigente, insomma è un piacere enorme per me. Beh, Walter, d'altronde tu sei stato adottato dalla città di Pesaro, sei un pesarese. Allora, diciamo anche i tuoi numeri nella VL giustamente, 589 partite, 8.096 punti, due scudetti, 88 e 90, una Coppa Italia, 1983 e due Coppa Italia, 85 e 92. Roberta, a proposito di Coppa Italia, ti viene in mente qualcosa? Assolutamente sì Antonio, andiamo a svelare a questo punto la domanda del contest di questa settimana. La domanda è qual è il nome esatto della Virtus con la quale Walter Magnifico non ha vinto la Coppa Italia. Ricordiamo in palio due biglietti per la partita di domenica 5 febbraio contro Reggio Emilia alla Vitre Frigo Arena. Ovviamente la prima persona che risponderà correttamente alla domanda si aggiudica questo bellissimo premio. Grazie Roberta, quindi la domanda è tra bocchetto. Andremo a vedere quanti sapranno risponderci. Paolo, te come lo vedi Walter in questa veste dirigenziale? Sicuramente è la persona ideale per rappresentare il basket di Pesaro insieme a Dario Costa, ma lui in particolare veramente l'immagine. Io lo vedo benissimo ed era uno di quelli che faticava a capire quando non era in società perché ancora non fosse rientrato in società. Tra l'altro, al di là del ruolo dirigenziale che svolge con tutte le sue migliori capacità, diciamo anche che da quando è tornato Walter sarà un caso, però abbiamo come WL dopo anni difficili che conosciamo tutti, stiamo vivendo da tre anni a questa parte, anche l'anno scorso con un momento difficile, poi l'arrivo di banchi fino ai play-off sono tre anni felici. In questo momento siamo quarti, quindi siamo veramente in un momento spettacolare sotto questo aspetto. Quindi meglio di così, Walter? Credo che sia stata una combinazione perché al di là, come dicevo prima, della passione, del mio impegno, ma qui c'è stato Ario, c'è Stefano Cioppi, c'è Luciano che per tanti anni, c'è uno staff, un gruppo di persone che lavorano all'interno della società che sono anni che sono lì e cercano di fare sempre il loro meglio, per cui diciamo che il mio arrivo poi è coinciso con questi risultati, bene, benissimo, ma non credo che sia arrivato a WL. Quanto meno sei un uomo fortunato. Anche perché quando sei arrivato 40 anni fa a Walter, perché più o meno è questo a Pesaro, quando sei arrivato alla WL 40 anni fa è cambiata la storia della WL, è stato il momento in cui la WL ha fatto lo stacco verso i successi, allora scavolini, e quindi è la seconda coincidenza, cominciano ad essere due. No, no, va bene così, vabbè, sai poi quando arrivai io… Nelle indagini si dice che due indizi, cominciano a fare una prova. Senti, fin quando va bene così le cose, qualunque siano i motivi, facciamole andare bene. E a questo proposito devo dire che ho la sensazione che non si stia vivendo nella maniera giusta questo straordinario momento della nostra società, della nostra squadra di Pesaro, perché noi siamo, come hai detto tu, siamo quarti in classifica, abbiamo raggiunto le final eight, giochiamo benissimo, stiamo superando le difficoltà degli infortuni prima di Tambone, adesso di di Valerio, che salutiamo veramente con grande affetto, però non lo so, leggo, parlo con le persone, se mi sembra quella tensione adesso legata, ma dobbiamo completare la squadra, altrimenti noi comunque abbiamo reagito dopo la sconfitta di Reggio Emilia con tre vittorie consecutive, pur nella difficoltà, perché questa è una squadra che supera anche i propri limiti, cioè limiti nel senso che queste difficoltà qui, perché non ci sono giocatori che sono indispensabili, quando c'è un infortunio, quando c'è un'assenza di un giocatore, ci sono gli altri che reagiscono e contribuiscono sempre di più agli esiti della partita della squadra che sono positivi, perché abbiamo vinto dieci partite, c'è sempre questa preoccupazione adesso di mettere a posto le cose, altrimenti… Allora, peraltro poi è una squadra, la VL con grosso stampo italiano, tanti italiani, tanti giovani, tanti ragazzi, quindi è una squadra davvero che è un orgoglio per tutti noi, in realtà io penso che il tifoso, sai, è sempre esigente, il tifoso vorrebbe vincere l'Eurolega forse, il tifoso è legato ai successi del passato, ha la voglia di essere in alto e magari c'è questo istinto, poi però, per esempio, il 26 di dicembre noi abbiamo visto, no, alla Vitri Frigo Arena veramente una partita degna di Eurolega, quindi essere in quell'ambiente, con quella squadra, con quella VL è stato bellissimo. Sì, 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 indubbiamente, guarda, io ho avuto la sfortuna di non poterla vedere perché in quel periodo lì ho preso l'influenza, per due settimane sono stato a casa, ma ho perso veramente proprio la partita delle partite, perché davanti a 9 mila persone, una partita tiratissima, bellissima, purtroppo ho perso al supplementare, purtroppo con l'infortuna di Mazzola, ma diciamo che è stato un momento sicuramente entusiasmante per Pesaro, dopo tanti anni essere ritornati a vivere con una certa continuità, perché di partita in partita abbiamo vinto cinque volte fuori casa, cioè vorrei che questo, sappiamo benissimo le difficoltà che ci sono andando avanti, lo sappiamo che dobbiamo completare la squadra, inserire un altro giocatore, ma viviamo anche il momento in maniera più serena e più positiva. Tra l'altro, una statistica che è uscita questi giorni, non so se l'avete letta, sulla partita con la Virtus, nel campionato di andata è la terza partita con più spettatori in assoluto, le prime due a Milano, Armani contro Varese, contro Tortona e la terza, quindi l'unica fuori da Milano, la partita con più spettatori fuori dal forum di Assago è la nostra WN Virtus. Oltre 9 mila spettatori. Sì, è chiaro che un aspetto veramente bello di questo periodo è il coinvolgimento delle persone, la gente, i tifosi, la curva è esaurita, la curva continuamente sempre accesa, entusiasta, è bello, dobbiamo ringraziare anche tutti i tifosi per l'aiuto che ci danno. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo in quella partita, che poi si riverbera anche in altre, ma in quella era particolarmente vivace, erano i bambini, i ragazzini che a ogni tiro libero della Virtus andavano dietro il canestro ad agitarsi e purtroppo quelli segnavano sempre però, che se si agitavano. E' una squadra di Eurolega, però se tu non ti ricordi bene, l'ultima partita hanno sbagliato due tiri liberi, erano, bisogna sbagliare, due tiri liberi importanti, hanno perso, anche lì c'erano i bambini che davano fastidio. C'erano anche i bambini che davano fastidio, i nostri sono stati più fortunati. I bambini della Eurolefanzone che un po' l'anno scorso, grazie a questa iniziativa che ha avuto Alessandro Mengucci, che è il nostro coordinatore della tifoseria, che abbiamo portato avanti insieme, abbiamo un po' riacceso una parte, dedicandoci al pubblico più giovane e poi a seguito si è un po' ricompattata tutta la curva, anche dei tempi passati. Adesso è uno spettacolo assoluto. Roberta, qualche novità? Sì, Antonio, ti leggo intanto qualche domande arrivate dai nostri telespettatori. Sì. Buonasera, un grande ringraziamento ad Antonio che nonostante non indossi le mitiche cravate di Marco, ci ha riportato in studio il grande capitano della Scavolini e pure un vecchio playground pesarese come poto, Gigi63. Grazie Gigi, peraltro è un anno che ti rende onore, non ti diciamo perché ma ti rende onore. Poi Roberta? Una domanda per Walter. Ciao Walter, sono Lorenzo, volevo domandarti in primis se il main sponsor Beretta è orientato a rimanere con la VL a lungo e che prospettive future ci sono per la nostra gloriosa VL e visto che le altre società si sono rafforzate fortemente, che intenzioni ha la VL nell'affrontare la seconda parte della stagione? Beh, parto dall'ultima domanda. Naturalmente, come ho detto, come ho accennato prima, è nostra intenzione assolutamente dare completezza alla squadra e quindi ovviare all'infortunio di Mazzola, stiamo analizzando bene la situazione insieme al coach per fare una scelta giusta che possa non sballare, non squilibrare un po' tutto quello che è adesso, l'equilibrio della squadra che è adesso, un inserimento di un giocatore di qualità che possa dare sostanza alla squadra e completarla nel migliore dei modi. Io credo che la famiglia Beretta, diciamo Andrea in primis perché Andrea viene spesso a Pesaro, vive molto direttamente e con grande ansia, entusiasmo e ansia soprattutto alle partite, ancora non si è abituato e non ha capito che la Palacanestro spesso e volentieri offre finali di partita particolari, però è molto preso, come dici tu, è molto preso, quindi poi soprattutto anche questi ultimi risultati e la bellezza del gioco che la squadra offre, credo che possano farci sperare che il cammino insieme possa durare ancora a lungo. Anche perché poi all'inizio è sempre difficile, il nome nuovo Carpegna Prosciutto, non è stato facile farlo entrare nell'orecchio, adesso ormai invece è vero, è la Carpegna Prosciutto anche a livello nazionale, Carpegna Prosciutto pesa, quindi è interessante questo aspetto. E poi oltretutto adesso abbiamo le Final 8 di Coppa Italia a breve, a metà febbraio, io direi ad Andrea se è possibile di mettere il tabellone che così diamo un'occhiata a questo tabellone del mini torneo che si svolgerà a Torino e vedete l'AVL in virtù del quarto posto e nella parte sinistra del tabellone giocherà la prima partita con Varese. Noi adesso parleremo di queste Final 8, ma già invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici se hanno voglia di darci i loro pronostici. Paolo, come le vedi queste Final 8? Eh, in generale o per noi? Allora, ovviamente per noi e poi anche in generale. In generale... Meglio Milano o meglio Bologna? Come eventuale semifinale? In questo momento è meglio Bologna, è fuori di dubbio. Milano è in un momento di difficoltà, ma poi quando è il momento giusto, insomma, in quei contesti di... Sarebbe bello che si uscisse da questo duopolio, che sta durando da 3, 6, 7 titoli consecutivi, fra ogni anno si assegna Campionato, Coppa Italia e Supercoppa e siamo al settimo titolo che si dividono tra Milano e Bologna. Quindi il primo auspicio è che non lo vinca uno di loro due, secondo che lo vinciamo noi. E noi incontriamo Varese e sarà molto duro. Si incontrano il primo e il secondo miglior attacco della Serie A. Sarà una partita spettacolo anche per quello, punti a go-go. Varese è la squadra più NBA d'Italia. Non so se sei d'accordo con la definizione, tira tanto da 3, corre veloce, molto... Se in serata che gli gira molto bene il tiro da 3, sono difficili da fermare. Però noi l'abbiamo già fatto una volta. Sì, è una squadra difficile, che è difficile da scautizzare e verso la quale è difficile anche trovare degli accorgimenti difensivi diciamo di una certa maniera. Perché non hai il gioco tradizionale, corre molto, chiaramente tira tanto da 3, fa molti più possessi, molti più attacchi. Sì, certo, noi diciamo che dobbiamo chiaramente non fargli entrare in ritmo, non fargli prendere confidenza. Io confido molto sull'aspetto difensivo nostro, anche se noi siamo una squadra con una vocazione offensiva importante, perché segniamo tanti, abbiamo mani buoni in tutti i giocatori, ma l'applicazione, vi garantisco che durante gli allenamenti, l'applicazione e l'importanza che si dà alla difesa, che il coach, che Jasmine, dà alla difesa è altissima. E infatti noi spesso e volentieri riusciamo a trovare degli accorgimenti tecnici e tattici difensivi che mettono in difficoltà l'avversario. Questo è anche il risultato, non solo perché segniamo, ma anche perché comunque difendiamo e blocchiamo gli attacchi avversari. Infatti c'è questa bella impronta, no? Che la VL è una squadra appunto molto offensiva, ma anche molto capace di difendere. Assolutamente sì. Chiaramente voi non vedete gli allenamenti, ma io vorrei che li possiate vedere, perché veramente l'attenzione ai piccoli dettagli, ai tempi, ai movimenti coordinati che ci sono in difesa è di altissimo livello. Mi verrebbe da dire, Walter, ti l'ho già fatta prima di andare in onda la battuta, mi piacerebbe venire a vedere gli allenamenti, soprattutto se ti allenassi anche tu. Magari insieme a Dario Costa mi piacerebbe tantissimo vedervi lì. Se tu vuoi far due risate, se no è tutta un'altra cosa. Eh, lo so, però la classe... No, però vedere gli allenamenti di Jasmine è uno spettacolo, veramente. Immagina. E dei ragazzi, di come lo seguono, di come ci danno dentro, è veramente bello. I risultati si vedono. Eh, questo è vero. Non c'è veramente niente di casuale. No, no, assolutamente. Infatti, è chiaro che di settimana in settimana, quando è uscito il calendario, io mi ricordo questo a settembre, no, fine agosto, c'era una certa preoccupazione, non conoscendo ancora la squadra, no, come... Come poteva, diciamo... Poteva agire, amalgamarsi. Poteva agire, amalgamarsi, diciamo, scontro di qua, scontro di là, Milano in casa, Bologna in casa, partite difficili fuori, però poi ti assicuro che vederli allenare giorno per giorno, settimana dopo settimana, la fiducia veramente è aumentata. È sicuramente aumentata, anche perché il coach Repesa quest'anno ci sembra davvero molto, molto, molto motivato. Consideriamo che ha già giocato una finale di Coppa Italia due anni fa, quindi anche qui abbiamo qualche immagine da far vedere. Andrea sulla finale giocata due anni fa, è persa comunque in maniera abbastanza netta contro Milano, ma era stato bellissimo esserci, esserci arrivati. Quindi quest'anno siamo nelle final eight, abbiamo questa grande possibilità. Un'altra cosa strana è questa, che sono state organizzate negli ultimi quattro anni, le final eight due volte a Pesaro, e noi le abbiamo viste da spettature. A Milano, e poi adesso a Torino, e andiamo a giocarcele. Anche questo è un aspetto un po' particolare, no? Sì, sì, è una combinazione negativa, ecco, perché veramente, poi ci allontanano sempre di più. Esatto. Minano, Torino. Torino è una scelta, Torino è una scelta quanto meno discutibile. Per la distanza. Sì, per il fatto che comunque è una città decentrata, non è una città di basket, non è una città che vive di basket, è una città lontana per tutti. No, scusa Paolo, per Tortona no. No, neanche per Milano. Neanche per Milano. Neanche per Milano. Certo, dice che comunque Milano, Varese, poi Brescia un po' di più, però credo che la sede, diciamo, dovrebbe essere sempre un po' al centro dell'Italia, dico Bologna per dire al centro dell'Italia, perché facilmente ragione, Pesaro chiaramente, anche perché ci vuole anche un bel palazzo grande, noi ce l'abbiamo. Come noi ce l'abbiamo. No, anche per permettere un po' anche, diciamo, ai tifosi di tutte le squadre di arrivare numerosi. Io ricordo la prima Final 8 a Pesaro, che è stata poco prima dello sfortunatissimo periodo del Covid, e rivedere l'arena piena, perché è stata veramente, sempre piena, completamente piena in ogni ordine di posto, che era tanto tempo che non si vedeva, era una cosa che veramente emozionava. Però in effetti la coincidenza non è stata molto positiva per altri motivi. La coincidenza non è stata fortunata. Roberta, ho visto qualcosa alla mia sinistra. Dimmi. Nino, innanzitutto, che ci dice che a Walter sei stato il più forte giocatore italiano dei tuoi tempi, grandissimo Walter. Poi abbiamo un'altra domanda da Claudio, sempre per Walter. Delucidazioni sul problema al piede del nostro greco. Grazie Nino per i complimenti che mi hai fatto. Io non sono un dottore, ha un problema al piede, sta giocando un po' su questo fastidio. Non sono un dottore, quindi non ti posso dire precisamente cosa. Io devo anche dire, nel rispetto della privacy di Vasilis, non posso dire niente. Ha un piccolo problemino che si sta valutando e si valuterà anche nelle prossime settimane e dopo si vedrà come si evolverà. Siamo, virgolette, sfortunati perché noi avevamo invitato questa sera anche Raul Zini, nostro caro amico, medico, che peraltro adesso ha operato qualche settimana fa Mazzola, però non è potuto venire perché è impegnato fuori città. Magari ce l'avrebbe detto lui qualcosa in più, però giustamente la risposta non può essere che questa. Passiamo dalla Coppa Italia al campionato. Perché? Perché se è vero che la Coppa Italia sta cominciando adesso a prendere tutti, si avvicinano alle Final Eight, però, l'avete detto entrambi, Walter e Paolo, in questo momento la VL è quarta in classifica con 10 vittorie ed è, dopo tanti anni, una classifica anomala perché in realtà è una classifica corta. Dai 24 punti della prima ai 10 dell'ultima erano anni che non c'era questo equilibrio. Sì, sì, assolutamente. molto corta perché, come è logico pensare, due vittorie ti portano, ti fanno salire, dico in cima per dire, ti fanno salire, ma due sconfitte ti ritrovi di nuovo nel mucchio pericoloso. Però devo anche dire che è la bellezza di questo campionato perché ci sono state squadre ultimo, penultimo in classifica, non ultimo risultato di Reggio Emilia che batte Milano o Brindisi in difficoltà che poi batte Bologna ed è anche pericoloso ma bello. Non ci sono partite scontate. Credo che questo però faccia bene diciamo al movimento, un po' a tutti. Nessuno si sente inferiore, non c'è la squadra che ammazza tutti e quindi è un campionato bello sicuramente. Sicuramente Paolo, questo equilibrio favorisce appunto il gusto di vedere le partite, favorisce i tifosi che seguono di più il basket e comunque in questi ultimi anni il basket è tornato a risalire per quello che riguarda proprio anche l'attenzione dei media, Paolo. Sì, sicuramente sì. È chiaro che il basket ha un suo zoccolo duro di appassionati, però lo vediamo anche a Pesaro con i bambini che citavi prima. Ci sono tante nuove generazioni che si stanno avvicinando al basket e leggevo anche statistiche di Eleven che ha i diritti del campionato di basket che dalla prima giornata all'ultima statistica ha raddoppiato gli abbonati e i collegamenti che ci hanno direttamente via le partite quindi c'è una grande risalita. Un campionato così secondo me aiuta moltissimo perché effettivamente al di là delle due fuori serie Milano e Bologna che comunque con il doppio impegno Eurolega poi in campionato diventano battibili giocabili giocabili in qualche in qualche momento le altre dalla terza alla sedicesima sostanzialmente si può perdere con la sedicesima e vincere con la terza non c'è nessuna squadra che puoi dare per scontata di batterla o di uscirne battuti quindi questo non può fare che salire l'interesse perché tanti possono vincere tanti possono essere coinvolti abbiamo poi questa settimana registrato una una posizione la posizione del nostro coach che adesso noi andiamo a vedere grazie a un'intervista che è stata effettuata da Rai3 domenica scorsa dopo la vittoria contro Verona anzi sabato andiamo a vedere esattamente qual è la questione perché è una una cosa interessante che vogliamo approfondire con Walter onestamente noi ci mai alleniamo a questo campo mai i giocatori fanno fanno fatica per dimensione perché perché è un po' diversa rispetto a posti dove ci alleniamo io vorrei chiedere al nostro sindaco per la disponibilità a fare fare un allenamento a settimana a questo campo chiaramente è una cosa difficile perché non è che dall'oggi al domani si possono cambiare no gli accordi contratti poi la gestione della vita in frigo arena è molto complessa lo sappiamo però Walter effettivamente dal punto di vista sportivo giocare allenarsi anche nel campo dove poi si gioca la domenica può essere un vantaggio sicuramente qualcosa ti potrebbe dare ma certamente però io credo che in tutti i campi dove ci sono palazzi così grandi Milano Bologna Milano non si allena mai lì c'ha la sua palestra come noi ci alleniamo nella palestra nord Bologna lo stesso io addirittura quando giocavo a Roma che giocavamo a Leur ci allenavamo a sette bagni in una palestra piccola poi giocavamo soltanto all'allenamento di tiro il sabato prima della partita e basta è difficile utilizzare quotidianamente un impianto del genere gli accordi ci sono e c'è la massima serenità fra le parti fra la società fra l'amministrazione l'aspetto eccetera quindi certo si potrà Ario gestisce benissimo questi tutti questi rapporti adesso magari si cercherà di andare incontro anche a questa richiesta del coach ma insomma non c'è nessun diciamo nessun problema nessuna situazione infatti era questo che ci piaceva sottolineare è una richiesta fatta da un punto di vista tecnico dal coach però che ci può stare chiaramente e c'è tutta una grande difficoltà organizzativa dietro a questo però come diceva giustamente Walter Magnifico poi ci si allena benissimo anche nella palestra e lo testimoniava proprio lui con quanto vigore quanta forza poi questi ragazzi si allenano tutte le settimane tutti i giorni assolutamente sì assolutamente sì è un piacere vederli veramente è un piacere vederli allenare c'è veramente uno spirito di gruppo perfetto proprio per quello che deve rappresentare una squadra sono veramente compatti e questo mi fa sperare che questo periodo positivo possa continuare perché i risultati vengono quando c'è il sacrificio in campo e l'impegno di tutti esatto il basket è uno sport di squadra ed è bellissimo che questo sia è bellissimo vedere i giocatori che esultano a bordo campo che si abbracciano alla fine Roberta c'hai qualche notizia? qualche altra domandina? allora innanzitutto salutiamo Luca B questa sera purtroppo non riesco a seguirvi ma vi mando un grande saluto salutiamo Luca B allora altre due domandine Cecco da Pesaro che ci scrive da questa stagione complimenti a tutti è possibile cominciare a tenersi uno o due giocatori bravi per costruire una squadra che abbia un futuro? negli ultimi anni ne abbiamo avute parecchi di buoni giocatori poi venduti tutti per motivi di budget e questa è la domanda di Cecco esatto Cecco non è che li abbiamo venduti noi è che è il mercato purtroppo poi quando spesso e volentieri anzi capita che noi facciamo delle scelte su giocatori giovani magari non tanto conosciuti che giocano bene perché soprattutto in questi ultimi due anni con Jasmine e Luca Banchi abbiamo fatto comunque due buoni campionati si esprimero bene e poi dopo arrivano proposte alle quali noi non possiamo far fronte non possiamo competere e quindi i ragazzi vanno fuori anche se noi che rimandiamo via che poi comunque abbiamo giocatori come Moretti e Tambone che già vengono da Moretti dall'anno scorso Tambone da due anni e sono già stati legati con noi per due anni Mazzola anche per due anni quindi diciamo l'idea di creare un gruppo base c'è assolutamente ma semmai questa non può che essere una nota di merito perché comunque con una gestione così mirata così attenta la VL sta raggiungendo questi risultati e il cuore di quello che diceva prima Walter Magnifico è proprio questo con una situazione positiva come questa ragazzi godiamocela godiamocela per davvero perché questi ragazzi stanno facendo miracoli stanno facendo benissimo e andarli a vedere è un piacere per tutti Roberta ti sentivo ancora voler intervenire sì ho altre domande di nuovo ciao Walter uno dei primi giocatori italiani a fare un provino per la NBA vero vero Paolo tifoso e abbonato dal 1975 ci scrive sabato con Verona eravamo quasi in 5000 con un tempo da lupi qualche anno fa non saremo stati nemmeno 2000 il ferro si batte quando è caldo noi tifosi abbiamo già dimostrato il nostro amore verso la VL la società ha ancora dei dubbi i soldi ora ci sono fate il 6 più 6 e pagate la tassa e lasciate a Repegia il compito di farci sognare alcune cose si si semplificano un po' troppo facilmente cioè il 6 più 6 è una tassa che è di qualche decina di migliaia di euro ci impedisce di partecipare poi alla distribuzione del premio per l'utilizzo di italiani del 26 nel quale siamo primi e quindi un'entrada di qualche decina a fine campionato naturalmente non adesso di migliaia di euro quindi non è così facile pagare rinunciare un'entrata eccetera la capacità che hanno avuto tutto deve essere fatto sotto il massimo controllo che ha come primo obiettivo la salvaguardia la vita della società non si possono fare passi più lunghi della gamba come si usa a dire e su questo Ario è stato fantastico ancora più solido di quando giocava molto concreto lui con il CDA con tutti i consorziati ed è per questo che dalle annate difficili non c'è mai stato il rischio che la società non dovesse più andare avanti e questa è la cosa più importante per cui è chiaro che si tende il tifoso tende a voler dire no adesso i soldi ci sono ci sono ci sono quelli che servono per fare le cose con grande attenzione non abbiamo i soldi di Milano o di Bologna per cui grande oculatezza grande attenzione davvero grande bravura della società io aggiungerei una cosa che è chiaro che noi tifosi appassionati cioè viviamo un momento spettacolare e c'è sempre un po' di paura magari che passi e per cui si vuole essere garantiti anche sotto l'aspetto di scegliere un giocatore nuovo di fare le scelte però dobbiamo essere tutti molto pazienti e avere fiducia nella società perché questa società quest'anno non ha sbagliato una scelta cioè non c'è un giocatore nella nella VL di quest'anno che tu puoi dire è stata una scelta potevamo fare meglio non è non è così quindi tranquilli e a questo proposito Paolo vi volevo attaccare a questa notazione che hai fatto tu sulla conferma di Gudmundson che è stato confermato fino a fine stagione è piaciuto tanto è piaciuto a tutti è piaciuto ai tifosi è piaciuto ai pesaresi e tu ti chiedevi prima di cominciare la nostra trasmissione ti facevi una domanda su Gudmundson qual era questa domanda? ma perché uno in Islanda si mette a giocare a pallacanestro? perché è un ragazzone alto perché è bravo ha scoperto un talento e Walter sicuramente ci potrà dire quello che poi rappresenta per il basket anche un Gudmundson intanto volevo allacciarmi un po' alla alla sua considerazione noi in effetti quest'anno la squadra è stata costruita benissimo allenata benissimo e noi abbiamo avuto solo la sfortuna di due infortuni dove Gudmundson è venuto per sostituire temporaneamente il tampone Matteo poi dopo ha dato prova della sua capacità di inserimento nella squadra di colpirare un ruolo che dà garanzia a Repes e quindi è stato diciamo prolungato fino alla fine dell'anno il discorso dell'infortunio di Mazzola sfortuna adesso andremo a ovviare a questa situazione dando completezza alla squadra scusami tra l'altro Gudmundson è proprio la dimostrazione di quello che si diceva prima nel senso che comunque è arrivato con un certo scetticismo dietro perché poi a Bologna non aveva fatto benissimo ho letto parecchie ma insomma dai Gudmundson e io non ricordandolo molto bene come non avendolo seguito a Bologna non avevo un'idea tecnica da esprimere su di lui però mi dicevo però il Repes l'ha allenato se lo riprende una ragione ci sarà ma Gudmundson già due anni fa quando Jasmine era con noi era un giocatore che lui apprezzava e che si provava diciamo a contattare nel Mirino quindi è un giocatore che lui poi anche l'anno scorso ha preso a Bologna quindi perché Jasmine punta molto sulla squadra tutti diciamo non vuole i giocatori che si ergono a protagonisti le gerarchie sono definite in maniera precisa tutti devono essere un mattone per costruire questo muro questo palazzo nessuno deve avere di più degli altri per cui i giocatori al servizio della squadra a volte possono non avere un talento straordinario ma sono efficaci più della stella che poi questa è la vera forza della Vuelle di quest'anno perché tu prima hai detto una cosa giustissima su Varese dice una squadra difficile da scautizzare la Vuelle ancora di più è difficile da scautizzare perché non puoi pensare dice fermi Rachman esce Cittam fermi Cittam esce Visconti ci sono tutta una serie di giocatori che sanno dare quei dieci minuti perfetti che è difficile poi fondare una strategia su fermo un giocatore perché è una squadra che non dipende da un giocatore perché è una squadra è una squadra Roberta hai notizie sul nostro contest ci avviamo alla conclusione ci stiamo avviando alla conclusione sì hai quindi da darci un nome ho già davanti un nome sì ricordiamo la domanda del contest qual è il nome esatto della Virtus con la quale Walter Magnifico non ha vinto la Coppa Italia vado con la risposta Antonio vai con la risposta ok la risposta corretta della domanda del contest di questa settimana è Virtus Pompea Roma e ad aggiudicarsi il premio di questa settimana è una donna e si chiama Gaia complimenti Gaia complimenti Gaia vedete in questa foto l'abbiamo cercato cerchiato ma si vede poco c'è Walter Magnifico in quella squadra romana che era la Virtus Pompea alla fine degli anni 90 che è stata una delle ultime nelle quali ha giocato Walter Magnifico è la Virtus Pompea Roma non ha vinto la Coppa Italia perché in realtà Walter ha vinto la Coppa Italia con noi con Pesaro e poi l'ha vinta anche con Bologna con la Virtus Bologna a questo proposito Walter proprio in conclusione un paio di domande te l'avevo fatta anche prima tu hai giocato a inizio carriera nella Fortitudo a fine carriera nella Virtus Bologna è un'altra basket city come Pesaro noi diciamo no Pesaro è meglio ma d'altronde lo diciamo e lo crediamo è molto più basket city però anche Bologna con le sue due squadre che differenza c'è fra queste due realtà così importanti che poi nel corso degli anni sono cambiate oggi la Fortitudo ha meno fortuna la Virtus è di nuovo in Europa allora io quando arrivai alla Fortitudo ho 18 anni eravamo in A2 vincevamo il campionato di A2 ancora era una Fortitudo che pescava dei giovani talenti e poi magari prendevano il volo nelle altre squadre diciamo non aveva poi dopo negli anni è diventato la Fortitudo che insieme anche a Carlton è arrivata a tante finali però lo spirito ricordo sempre che lo spirito battagliero dei suoi tifosi la partecipazione dei tifosi era sempre molto sanguigna a differenza della Virtus sai si diceva il salotto nel campo nel salotto polonese in effetti c'era un po' più di raffinatezza diciamo nella tifoseria o quantomeno diciamo il gruppo dei più accesi dei più focosi era un po' più limitato rispetto alla grande diciamo al grande muro di tifosi della Fortitudo si diceva più paninari che borgatari forse erano un po' più i paninari negli anni 80 e poi un'altra cosa Walter tu hai lavorato tanti anni con i giovani adesso chiaramente hai un impegno maggiore con la società sei rientrato nella UL però credo che ancora tu qualcosa faccia con i giovani assolutamente io 13 anni fa ho aprito una mia società e fino all'anno prima del Covid abbiamo sempre sviluppato e svolto l'attività a livello mini basket sia con il mini basket sia con le squadre giovanili dall'under 13 fino all'under 18 sono stati anni bellissimi perché ho conosciuto veramente decine e decine di ragazzi ed è stato bellissimo chiaramente adesso sono impegnato di più con la VL i pomeriggi chiaramente non posso stare in palestra ho ridotto molto l'impegno che ho diretto perché io volevo allenavo tre squadre per cui poi c'erano i miei collaboratori però volevo stare sul campo e interagire con i ragazzi e adesso io portavo avanti un progetto soltanto con i ragazzi comunque sempre di 17 18 anni 16 anni e facciamo un campionato di promozione e lo facciamo anche in collaborazione con un mio amico di Misano Misano Pires Giorgio Vagnini ma questo è sempre un po' per far crescere per far vivere il mondo senior un po' del previsto questi ragazzi che sono ancora ragioni bellissimo chiaramente ci alleniamo la sera perché è l'unico momento in cui c'è tempo di farlo domenica giochiamo a Sassari è una trasferta molto difficile noi adesso sappiamo che la squadra di Sassari ha una tifosa d'eccezione e la vediamo in questa diapositiva che si tratta di Geppi Cucciari la simpaticissima presentatrice radiofonica televisiva che è una grande tifosa di Sassari Roberta ma tu sarai in campo invece con la sciarpa bianco-rossa Antonio io ho già un biglietto aereo pronto per la Sardegna quindi ci vediamo domenica prossima a Sassari ovviamente sono in prima fila grazie Roberta un pronostico proprio volante sulla partita di Sassari Paolo vince la WL Walter vince la WL certo non poteva essere difficile se non è un pronostico è un grande augurio non sarà non sarà per niente facile due Paolo ti lascio l'onore dell'ultima domanda Walter l'ultima domanda Walter ma io gli chiederei una curiosità personale proprio nella nella sua carriera due partite una per la gioia che ti piacerebbe rivivere una per la gioia che ti ha dato è una da rivivere per la delusione che ti ha dato allora quella che mi piacerebbe rivivere è la gara 2 a Milano del primo scudetto noi vincemmo la prima gara a Pesaro e poi vincemmo la prima delle due gare la seconda gara quindi la prima delle due gare a Milano perché lì segnai il primo canesso da tre punti ma in un'azione in cui non me ne sono quasi nemmeno accorto stavano per scadere quella volta i tre no era un movimento in cui era previsto che andavo sul post basso dove era la mia posizione e giocavo invece poi ho visto che Meneghini mi aspettava dove dovevo andare io salgo taglio salgo sul blocco diario vado e prendo e tiro da tre la prima volta mai provata in allenamento mai provata in cose per cui diciamo poi quella partita la vincemmo e lì fu la diciamo abbiamo messo proprio la anche perché da lì davanti avevamo tre match ball no avendo vinto la seconda avremmo avuto tre match ball e diciamo dunque quella che che è andata male che vorresti rigiocare la classica partita che vorrei rigiocare beh io vorrei rigiocare beh rigiocare rigiocare gli ultimi secondi della partita con New York e riuscire a non prendere quel tiro da tre e pareggiare perché poi io mi ricordo che parlai con Stu Jackson che era l'allenatore di New York e gli chiesi sai cosa sarebbe successo nel caso voi aveste perso e dice lascia stare dovevamo andare via tutti da New York perché a New York poi la stampa è pesantissima quindi non ce l'avrebbero perdonata quindi volevo vedere avere diciamo e questo è riferito alla volta in cui la WL giocò contro una squadra di NBA era nel 1900 era nel 90 nel 90 e sfiorò l'impresa di vincere con la squadra di New York McDonald Open esatto col McDonald Open che fu veramente una grande invenzione per il basket di quegli anni mise in contatto le migliori squadre europee con l'NBA o tu ti riferivi alla partita della Morettina in testa medichina rifacciamo la testa medichina poteva essere anche la partita delle giovanili che ora ci tiene un'emozione che è particolare Roberta andiamo in conclusione sì sì Antonio vi leggo gli ultimi commenti per me Walter è scavolini e basta pagherei per rivedere la vecchia scavolini vecchie glorie visto che non abbiamo mai vinto a Sassari per la regge dei grandi numeri puntini 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 fino alla fine Forza WL Max di Pesaro poi una domanda per Antonio e Paolo Antonio e Paolo convincete Walter a giocare a City Tennis sarebbe imbattibile quindi capiamo molto probabilmente conosciamo anche capiamo da dove viene la domanda ciao Francesco e non sarebbe male secondo me schiacceresti molto spesso esatto ti vedo a fare devo rimettermi prima in movimento prima a City Tennis Walter non avrebbe bisogno della racchetta perché con la mano direttamente con le mani Roberta grazie davvero sei stata straordinaria come sempre grazie Antonio e grazie ovviamente agli ospiti ringraziamo anche l'abbiamo già citato Andrea Sabatini dalla regia ringraziamo soprattutto Walter Magnifico grazie sembra un piacere è sempre un piacere è davvero un grandissimo piacere ringraziamo Paolo per essere stati con noi aver dato vivacità questa serata grazie a voi per l'invito ci vediamo anzi vi vedremo vi vedrete mettetela come volete giovedì prossimo con Marco Cadeddu a Insieme a Canestro una buona serata a tutti davvero grazie per averci seguito fino adesso ciao a tutti comis a Pesaro dal 1994 opera nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto olio e gas grazie alla competenza del proprio staff tramite il proprio sistema di gestione integrato qualità ambiente sicurezza e responsabilità sociale comis implementa continuamente le proprie risorse per garantire ai propri clienti servizi integrati di progettazione e direzione lavori di elevata professionalità comis progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas il tuo portone di casa è a prova di ladro? noi di RB Plast abbiamo tutto quello che ti serve da sempre siamo rivenditori di tapparelle e infissi in PVC non solo finestre ma anche porte blindate grate di sicurezza zanzariere e accessori per tapparelle viene a scoprire tutti i nostri prodotti e gli incentivi fiscali con sconto in fattura nello showroom di via Flaminia 300 a Pesaro e quindi